Benvenuti al canale Cagliari News, la vostra fonte di notizie calcistiche. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le novità della Cagliari. Dopo l'accordo praticamente concluso tra il Cagliari e l'Atalanta per il trasferimento di Palomino, il club italiano sta cercando altri rinforzi per la sua difesa. L'obiettivo è rafforzare la riserva e fornire opzioni al tecnico Claudio Ranieri per la prossima stagione. Secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, ha un'altra opzione nella sua lista, il difensore Andrea Cistana, attualmente al Brescia. Si crede che Cistana lascerà il club dopo la retrocessione in Serie C. La ricerca di un nuovo difensore mostra la determinazione del Cagliari a migliorare le prestazioni nella prossima stagione e a consolidare la sua posizione nel panorama del calcio italiano. Resta da vedere come si svilupperà questa trattativa e come la squadra si preparerà ad affrontare le sfide che verranno. E tu, tifoso rosso-blu, pensi che Cistana sia un buon rinforzo per la difesa? Lascia la tua opinione nei commenti, perché è molto importante per il Cagliari.